mi sono rotto di fare il guru di fare il guru dello spazio che arriva nel momento giusto al posto giusto a salvare le anime delle persone io non sono un guru ne voglio esserlo e ne voglio apparirlo mi sono proprio rotto di fare il guru prendete i vostri problemi e risolveteli da soli perché il primo guru sta dentro di voi non sono io il vostro guru né nessuno potrebbe esserlo ognuno di noi il guru di se stesso e non c'è psicodipendenza che tenga da un altro quindi non cercate guru non riempite i vostri giorni di smartphone di ricerca della verità su uno schermetto andate uscite di casa camminate per le strade e confrontatevi col mondo iniziate ad ascoltare in silenzio percepite ciò che dentro di voi e quindi vi accorgerete anche di quello che c'è fuori questo è l'unico vostro maestro non ce ne sono altri mi sono rotto di fare il guru